Ringrazio Peugeot per avermi dato la possibilità di essere qui a Monza con l'R5. Questo show è sicuramente una bella vetrina, c'è tantissima gente, tantissimo pubblico. Grazie a Simone ho iniziato a correre quest'anno. Ho fatto la prima gara a fine giugno, sempre con lui, e questa è la mia quinta gara. Sinistra, in, stacca, 30, destra, 2. Essere qui al fianco di Paolo e Anna è sicuramente uno stimolo e un aiuto incredibile, perché la loro esperienza e la loro umiltà ci ha aiutato tantissimo, ci hanno consigliato e ci hanno appunto dato un esempio da seguire. Sicuramente correre per Peugeot è un bel onore in Italia, perché è un marchio da sempre presente, sempre presente in modo ufficiale nel campionato italiano. Paolo in Italia penso che al momento non abbia quasi nessun rivale, e quindi è una bella soddisfazione essere qua con lui. Grazie Peugeot per lo stupendo finale di stagione e consiglio a tutti di provarci perché è un'esperienza fantastica. Grazie!